Musica Onlycraps bici di quante ragazzi sono Bezzbossa e sono tornato con il quindicesimo episodio del mio gameplay di Sacred Underworld Allora ragazzi volevo scusarmi per l'ennesima volta per il fatto che perdo sempre un sacco di tempo per quanto riguarda i drop Un iscritto, uno di voi, uno dei pochi che segue la serie del gameplay di Sacred Underworld mi ha scritto che appunto i drop sono il mio punto debole Ma non ci posso fare niente ragazzi, io sto giocando Sacred Underworld e sto facendo questa serie come se lo stessi giocando off camera Ed io appunto farei così, però cercherò di darmi un contegno Allora qui abbiamo quattro drop ragazzi, potete vedere che qui ho buttato per terra i bracciali acidi rinforzati Perché ho messo questi bracciali, bracciali dei racconti, possono essere potenziati, hanno più resistenza fisica e hanno una maggiore resistenza secondaria In questo caso del fuoco, che era più alta di quella del veleno Me ne sono messi per cui hanno una resistenza totale più alta, hanno più 38% della rigenerazione degli incantesimi e più 10% in meditazione E appunto possono essere potenziati Poi lì per terra c'è il bastone del maco che ho buttato per terra Che avevo... no, sì, era quello che occupava quattro spazi E poi ho buttato per terra anche un arco, anzi più che altro era per terra E ho provato a dargli ora la baronessa aviglia, però non so perché non lo prende in mano l'arco Non può usare l'arco la baronessa aviglia, strano E poi invece più avanti abbiamo altri drop se non mi sbaglio Sì, tra l'altro sono tornato indietro fino a... sperando che non laghi la mappa Sì, ogni tanto lagga Sono tornato fino a qui per prendere gli altri strumenti, ma erano già despawnati Invece, invece, più che prendere gli strumenti ho ucciso dei nemici Che a loro volta hanno dropato altri strumenti, ma fortunatamente facevano schifo Allora, qui invece abbiamo l'elmo che vale un 2x2 Ecco, quest'elmo per esempio era buono Per quanto riguarda la resistenza fisica Vedete, 934, 793 Per esempio quest'elmo me lo terrei al posto del... di questo bastone Quindi bisogna fare così, poi così, così, così E c'è ancora uno spazietto per qual... sono un genio ragazzi Ok A meno che non abbia già un elmo come questo depositato nello scrigno, però fa lo stesso E a sto punto questi guanti li potrei tenere e venderli Ma... Se non mi sbaglio Qui c'è un pugnale, appunto, blu Che forse vale 4.000 Ah ok, mi ricordavo giusto, vale 4.000 Lì per esempio ci sono i guanti d'arme Ho visto dei guanti d'arme efficaci E oggi vedo che il mouse non va tanto bene Boh, non so perché Questa cintura la tengo, ecco Potrei buttare via una pozione antilipera Poi casomai le ricompro se si possono comprare Ok, pozione minore medicamentosa Elmo della cordialità Ok Sì, sta raggando perché è la visuale più alta Vediamo questi guanti d'arme avvelenati efficaci Che non fanno per me, ma l'importante è venderli Ma valgono di meno Ok Allora Io adesso mi prefiggo Di arrivare in città E sta laggando Cioè, sembra che stia laggando Sembrerebbe E il volume è un po' altino per me Amuleto scintillante dell'impavido E ascia d'avorio Cioè ragazzi, veramente Ma mi sembra che faccia una posta, sembra 8481 Al posto dei guanti Qui ci sono appunto un paio di guanti Che però Io ho quelli gialli E Ma sì, a sto punto butto via questi guanti Che almeno non posso farci niente Posso solo vendere E l'amuleto Vediamo come va Allora Quanto vale Vale molto Vale Posso buttare via una pozione della morte e dei non morti Tanto ne ho Sì, sembra che stia laggando Allora, oggi Lo ammetto Sacred sta laggando Sacred sta laggando Prima volta che mi capita così Perché Sacred alla fine La ghicchia abbastanza Da sé Ma oggi sta laggando E vedo che anche il mouse slitta Non lo so Ma il punto Si è sdoppiata Il punto è che Devo registrare questo video oggi Volendo lo potrei Lo potevo anche registrare domani Ma è già un bel po' di giorni che lo rimando Quindi facciamo che tengo la visuale intermedia E Ok E sconfigo i nemici E per niente guardo i nemici dove sono Dalla visual Sì, vendetta Mi fa piacere No Baronessa Però dai pugni la baronessa Dai pugni però non attacca Sta cosa mi sta veramente sul cazzo Guardate Arco Non lo prende Boh È un vero peccato Vaffanculo Ah aspetta 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 Aspettate Ah ma quella lì è saltata Vero Mi metto qua così la colpì Dimmi che la Ok il fuoco continua Il fuoco Allora Ci sarebbe la pozione minore della morte De non morti che mi tenta Vediamo un po' Ah per esempio Avvicinati bravo Accridide Ma ti fai pochissimo male Ok va bene così Allora Qui ho tutto Ok Allora Qui per esempio ho questo bastone Che ho preso Perché vale molto Ma ha guarigione spirituale Più tre E anche scala la destrezza No scusate Sì Prende la destrezza E aggiunge la difesa Qui c'ho i tre guanti Del mago guerriero Qui c'ho l'elmo Utile Pugnale che vendo Mazza che Potrei No vendere Perché è rigenerazione Mossa speciale Non incantesimo Pugnale che vendo Ascia che È ascia infuocata Forse la vendo Anello utile Amuleto utile Cintura molto utile Diverse arti di combattimento Che quando le toglierò Mi daranno un sacco di spazio Amuletti e anelli Chi più ne ha più ne metta Che valgono parecchio È difficile ragazzi È una cosa difficile Stiamo attenti Sempre a La baronessa Viglia Ok Allora Cosa ho trovato di utile Lascia Che è bianca Però E vale 2x2 di spazio Però Sono curioso Sono sicuro Vale tanto Sì Dai È nella media E le gambiere Guardate che slitta il mouse E danno Sì Sono peggio Queste danno Protezione Al veleno Che di per sé Va bene Però Mi puzza la cosa Perché la somma Qua è più bassa Se in realtà È più alta Protezione 40 22 Forse perché Questa scala 9% A difesa Scusate Questa è solo Il 5% Possibile Ah no Perché questa scala Anche la resistenza Fisica Ok E insomma Questo di bonus Ha la meditazione Più 2 E valgono anche poco Ho buttato giù Quelli giusti Sì Vai Andiamo avanti Allora Sono a 7 minuti Devo stare attento Perché dovevo registrare Anche MacPixel dopo Sono un po' Indi Non è che sono indietro Con i video In realtà Non sono indietro Con i video Però Diciamo che Invece di registrare Come si dice Un video al giorno Faccio Che so Due video In un giorno Perché il fuoco Si è fermato subito Niente Oggi Sacred Non sta collaborando Sì Il mouse che slitta È colpa di Sacred Che appunto sta laggando Perché se fosse il mouse Che andrebbe male Me ne sarei accorto Anche mentre Che so Ero su Firefox Ero sul desktop Oh Li ho ammazzati entrambi Però mi hanno avvelenato Eh niente Oggi è così ragazzi Oggi Sacred Non vuole collaborare No Ho sbagliato Pensavo di aver ucciso La mosca Non la crivide Pozione migliore Della morte Di non morti Allora Ho pochissime pozioni E la cosa Non va mica bene Ho tante pozioni Del mentore Contando che ne ho anche Depositate Quindi facciamo che La uso E la raccolgo Bene bene Avvicinatevi subito Venghino signori Porca puttana L'ho raccolto A prescindere Qual è? Questo qua De duco Eh no no Vale vale Lascia fare Allora Cerchiamo di fare in modo Che non lagghi Abbiamo una bella Combriccola Tre in un colpo Dai Scudo urlante Merda no È gigantesco Oppure un 2x2 No no Eh ok Allora Cosa da? Allora Delle resistenze Non è ma Dicevo Le resistenze Non sono mali Ma i bonus Fanno schifo I bonus 1.303 1.347 Non mi ricordo Come fosse così alto Questo Ecco Questo è il peggiore Che ho Però è il muro Di bilet O violet E voglio i set Ragazzi Vorrei raggiungere Un set completo Cosa impossibile Finora come corriero Che mi sta riuscendo Sontanto quel creatore O l'elfo scuro Non mi ricordo Sì Non ne vale la pena Quello scudo Questo scudo urlante Non ne vale assolutamente La pena Raccogli l'oro Col tuo lag Micidiale Vai 2.700 di esperienza E il modello Bracci Non lo guardo Scendo qua sotto Perché sono sicuro Sarà pieno di nemici No Non così tanti nemici A quanto pare Allora Eccoli là È finita la pozione Sì Volevo un po' livellare Se devo essere sincero Questa zona è assolutamente Inutile In quanto io adesso Devo andare per di qua Ah non mi manca molto Sì Contate che poi Devo Devo sconfiggere i nemici Appunto Quindi facciamo che ammazzo Questa pianta carnivora E anche questa mosca Non ho colpito Nessuno dei due Merda Quanto danno Che gli ha fatto Sì Direi di andare avanti Se tipo Vado per di qua Che tipo Zona nuova Diciamo Da qui Sbucco di qua Sì dai Tanto vale Che esploro un altro po' Elmo scintillante Ragno guerriero Mosca Dai che ricompisca entrambi Non li ho colpiti entrambi Ma tipo Lo scudo Glielo posso dare Alla baronessa Ah lo scudo Sì E allora ti do Lo scudo urlante Che migliore Dimmi che non è Spawnato Vai 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 Aspettate che lo raggiungo In automatico Vediamo Oh Ma stai zitta Che ti serve Avete visto Quanto gli è aumentata La resistenza Per la realtà della mia Con solo uno scudo Io invece ho tutto L'armamentario Dell'inferno Qua In realtà no Però dai Allora Per di qua Si sbuca appunto Per di qua Che lo scuse Mi sembrava una cosa Vabbè Asciamo perdere Quanto danno Quanto Oh Due in un colpo Va sempre bene Allora Tanti nemici Tanti nemici Vado in mezzo Che non è mai peggio Vai 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 Uh Un arco con smeraldo Elmo di gelda Del vagabondo Ragazzi Sapete cosa Se voi me lo dite Io d'ora in poi Me ne frego altamente Di tutti i drop colorati Tranne tipo Magari gli amuleti Ehm No aspettate Magari tipo Gli amuleti Oppure Questi Oppure Cosa Cosa importante Che devo ottenere Assolutamente Le arti di combattimento Degli altri personaggi Arco con smeraldo Che non fa per me Nero sicuro Ma magari la baronessa No Ah no Quando lo butta per terra Vuol dire che Gli lo posso dare Sembro forse un muro No Chiedo scusa Non posso portare Mi sbaglio sempre No ok E questo è il modigiada Che non fa per È per la succube Ah no Per il nano Vale un bel po No vale di più Quello che ho io Quindi No avanti subito Va Allora Tanti nemici Però me lo visto Solo in due Ora in tre Dai Già un po' meglio Anello dell'impeto Pozione minore del mentore Che uso Aspettate che questa qui Non la prendi Infatti non mi aveva neanche visto Ora vado qua in mezzo E faccio una piccola strage Ho sentito un colpo Allora Ho visto Ho visto un nascondiglio magico Per caso Sembrava fosse qui Allora abbiamo Anello dell'impeto Anello del peto Che fa schifo Ah dio finalmente Un anello che fa cagare Allora Ah si Chiedo scusa Giusto Approfittiamone Allora Sono quasi arrivato Si Penso di fare Questa strada Per di qua No giusto Non devo Non devo zoomare Vi chiedo scusa È perché vedo di più appunto Allora No niente ragazzi È troppo automatico Lo zoom Dai che colpisco più in uno No Non ce l'ho fatta Ok Che lo scusa Che lo scusa Sono sempre usato La sfera di fuoco Però Visto che è comoda Fascia della rettitudine Di Etol Rak Not Ven Dimmi che è per me No non è per me Però è un anello In compenso Che non vale un cazzo Ah Minimo combattimento A distanza Quindi non me lo faccio niente Mi sa che No lo lascio per terra O lo vendo Lo vendo dai Allora Minimo combattimento A distanza 10 Esperienza Tenuti dei nemici 4% Spelli non morti Più uno Un'altra volta È venuto fuori Spelli non morti Quest'ascia È fighissima Ed è anche Chiedo scusa Ed è anche molto forte Però mi tengo quelle che ho già E sapete cosa Ma si dai Buttiamoci Come si dice Buttateci Dai ci sto per arrivare Oh Gli schiavi Ok Approfittiamone Merda Troppa 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 Vai vai Ho mazzato quasi tutti Tranne una mosca Che era troppo a sinistra Ah pozione del mentore Sono le Due Ok mi ero spaventato Sono le tre Ho detto strano Ok avvicinati di tutti Vengono signori Gambiere mistiche Con occhio di tigre E poi È anche Zoccolo di moffetta A vertebra di moffetta Zoccolo di gnu Chi ha capito Chi capisce Capisca ragazzi Allora Troppe robe Quanto manca Per salire di livello Ancora parecchio Allora sì Essenzialmente Sono quasi arrivato Diciamo quasi Tra mille virgolette Ascia canora Gambiere mistiche Con occhio di tigre Non fanno per me E valgono Sono per la diavola E valgono Non tantissimo Magari posso Dagli una spada Alla Molto meglio Ah Se lo dice lei O magari quest'ascia Che però È un'ascia magica Un pesce magico No Merda Ok Ora va meglio E quest'ascia Abbiamo detto Che valeva Per carità Vale parecchio Vale Ok Dai Ragno del bosco No È finita la pozione In tempo Ma A mio sfavore Dai Lama elfica Della redenzione Ovviamente Per l'elfo scuro Personaggio Che io adoro Avrei dovuto farlo Con lui Questa sera Ragazzi Mi sto pentendo Di aver scelto Il mago guerriero Perché è difficile Da usare Soprattutto Se non sai Niente di underworld Come me Allora Bastone piccolo Del mago Questo mi attira Sì Vediamo un po' Allora Da offrire a Qualcosa di Molto buono Se devo essere sincero Dove Oh ok Livello 49 Ma io non sono livello 40 Sono livello 44 Ah livello minimo 37 Reiki più 2 Allora Non è poi così tanto buono Se devo essere sincero Piuttosto Lo terrei per venderlo Magari Sarà meglio di Questi guanti qua Che ancora me li sto trascinando Però Ho già abbastanza oro Dai Dovrei smettere di pensare Ai soldi Ai big money Cazzo Oh questo è potente Dai Non lo colpi Immondizia Si può parlare Si può parlare di Immondizia in questo gioco Oh Non ha droppato niente Meno meale Allora Il mio obiettivo è arrivare Voglio arrivare assolutamente Al purgatorio E vedere se si sviluppa La storia Voglio questo Poi magari Nel prossimo episodio Venderò E scambierò Gli arti di combattimento Magari lo faccio Off camera Potrei anche far così Scrivetemi nei commenti Magari cosa volete Che faccio O che faccia Anello belluginante Del principe Secondo me fa schifo Si dai Per 2000 No Ci ho ripensato Ok Siamo arrivati Però ci sono ancora Dei nemici Che potrei ammazzare Si dai Lo faccio gli antiminuti In questo video Vai Vai Forse tornerò indietro Per gli altri drop Ragazzi Ovvero partendo Dall'ascia Che mi piaceva molto Ok Qui ho visto Un altro ragno Ah non era una cridide Cridide Blea Una mosca Ok Ora l'esperienza Per servire di livello Voglio vedere quant'è Scudo di Giada Ma lasciamo perdere Allora Probabile che faccio Tutto off camera Per quanto Al centro Ah ok Ashanti Parliamo con lei O lui Pronto che il mio consigliere Più fidato È nelle mani Dei seguaci Di Andukar Vai a salvarlo Prima che parli Della nostra ribellione Ai suoi aguzzini Perdona la mia fretta Ma il tempo È fondamentale Mi chiamo Ashanti Sono il capo Della crescente resistenza Contro Andukar Che si è insediato A Purgatori Purtroppo I soldati di Andukar Hanno catturato Prutuk Il mio fidato assistente E lo stanno interrogando Nessuno Può resistere a lungo Alle loro torture E ogni secondo Che passa Aumenta il pericolo Che lui possa tradirci Vai a salvarlo Prima che sia troppo tardi Ricorda Che Prutuk Conosce la strada Per arrivare alla porta Che stai cercando Tralacendo il fatto Che hai dimenticato Come sicuramente Sai già Questa è palese Palesemente La stessa doppiatrice Di la Baron Saviglia Che credo sia Emanuele Apacotto Ma che fa la voce tipo Hai capito Quindi libera Prutuk Dalle griffie dei demoni Quindi la nostra missione Si è aggiornata La leggo E stopperò l'episodio Allora Al centro Trova Ashanti Parla con lei Almeno ho trovato Ashanti Ma ha seri problemi No dai I demoni hanno catturato Prutuk Un importante membro del movimento Di resistenza di Ashanti Devo liberare Prutuk Prima che ceda la tortura E rivelo informazioni vitali Sui nascondigli dei ribelli Ashanti ha detto la verità I demoni Mi è familiare sta zona I demoni stanno Torturando Prutuk Per scoprire dove sono I nascondigli della resistenza Devo affrettarmi La mappa mi dice di andare Si sono già andato qua E vai Devo ritornarci Quindi ragazzi Per questo vi è tutto Tornerò indietro A prendere Gli altri drop Ovviamente off camera E adesso Sakrida ha smesso di laggare Non ha smesso di funzionare Comunque ha smesso di laggare Mi trolla Probabile che salirò di No sbagliato Probabile che salirò di livello Perché non mi manca molto Venderò tutto quello che devo vendere E scambierò anche le arti di combattimento Con quelle che appunto vorrò tenere Ma le userò in diretta nel video E probabilmente vedrete L'inventario sistemato Almeno molto più organizzato Quindi per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto E noi ci diamo al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti